Tutto il calore del Brasile, nonostante il maltempo, ha accolto il pontefice al santuario di Aparecida. È qui, nello stato di San Paolo, che Papa Francesco ha celebrato la sua prima messa fuori dall'Italia, presenti circa 200.000 fedeli. Un evento presidiato non solo dai credenti, ma anche da militari e forze dell'ordine, 5.000 in tutto, misure di sicurezza elevate dopo il ritrovamento domenica di un ordigno artigianale in un parcheggio del santuario. Ma anche dopo le proteste a Rio per i costi esorbitanti della visita papale, si parla di 40 milioni di euro. Papa Francesco è arrivato in Brasile il 22 luglio in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, un evento che si celebra ogni due anni. Nel paese dove i cattolici sono 120 milioni, si attendono circa un milione di fedeli, da 170 paesi diversi.